Mister Simoninzaghi, una sola perché ha già parlato abbastanza in questa partita, una risposta importantissima in un momento in cura fondamentale. Sì, io penso che i ragazzi siano stati bravissimi, hanno fatto una partita concentrati. Sappiamo qua quanto è difficile vincere, erano 11 anni che l'Inter non vinceva qua, quindi c'è una grandissima soddisfazione. È solo una tappa, in questo momento siamo ad inseguire il Milan e il Napoli, sappiamo che è ancora lunga ma faremo di tutto. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi.